Ciao a tutti! Oggi prepareremo la cocco cake. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Ingredienti sono farina di cocco, farina di tipo 00, fecola di patate, zucchero, yogurt al cocco, olio di semi di girasole, uova, lievito per dolci vanigliato, pasta di limoni o scorza di limone grattugiata, sale. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere le uova ed azionare il bimbi per 8 minuti, 37 gradi, velocità 4, senza misurino. Aggiungere l'olio e lo yogurt. ed azionare il bimbi per un minuto a velocità 3. Aggiungere la farina, la farina di cocco, la fecola, la pasta di limone, il lievito e il sale. Ed azionare il bimbi per 2 minuti a velocità 5. versare in uno stampo da 24 centimetri ben imburrato e infarinato. cuocere in forno preriscaldato statico a 160 gradi per 50 minuti circa. Fare sempre la prova stecchino. La torta è cotta, lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo e servire. cocco cake. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.